Dalla questione trivelle alla questione rifiuti, costruire una filiera industriale del riciclo a casa nostra e non a mille chilometri di distanza, lavorando nella direzione della strategia rifiuti zero. E questo l'auspicio del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto a Lecce ad un incontro organizzato dal presidente di Zero West Italy, vincitore del premio Nobel per l'ambiente, Rossano Ercolini. Il servizio di Francesco Rossi. Sabato scorso a Lecce Rossano Ercolini, presidente di Zero West Italy, premiato negli Stati Uniti da Barack Obama per la sua opera di promozione in Italia ed Europa della strategia rifiuti zero e Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, sono stati ospiti di un incontro organizzato per promuovere la strategia rifiuti zero nella nostra regione. La Puglia è al collasso sulla questione rifiuti, prima in Italia per reati ambientali, quart'ultima per raccolta differenziata, con gran parte delle discariche chiuse da parte della magistratura, numerose vertenze aperte in tutte le province, e le potenti lobby degli industriali che premono affinché il ciclo dei rifiuti venga chiuso in discariche, inceneritori e cementifici, l'opposto di quello che dice l'Europa in tema di economia circolare e che per questo ha messo l'Italia in procedura di infrazione. E quanto si legge nella nota diffusa dal coordinamento pugliese del movimento rifiuti zero, come coordinamento, insiste la nota, presente in sale e giunto da ogni angolo della Puglia, Foggia, Barletta, Trani, Biceglie, Bari, Brindisi, Massafra, Lecce, Mesagne, Noci e Cerignola, abituato a valutare le azioni piuttosto che le dichiarazioni, non accettiamo l'ammissione d'ignoranza da parte di Emiliano, che poco tempo fa tramite social network si domandava se rifiuti zero non fosse soltanto un'invenzione e se realmente fosse attuabile. Come attivisti, scrivono nel documento, prendiamo atto della richiesta di Emiliano a Ercolini di collaborare per la stesura di una nuova legge regionale ispirata alla strategia rifiuti zero. Garantiamo la nostra presenza, consapevoli però che tante volte le aperture sul tema da parte di numerosi rappresentanti istituzionali sono state disattese e alle enunciazioni di principio non sono seguiti atti concreti. Per questo ad Emiliano diciamo bene le parole, ma adesso seguono i fatti. Della partita fanno parte lo stop da parte della regione Puglia al raddoppio dell'inceneritore di Massafra e la revoca dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti nel cementificio di Barletta, così come la revoca all'autorizzazione dell'inceneritore di Manfredonia e tante altre urgenti misure che presto, insieme a Rossano e Ercolini, elaboreremo per iniziare ad avviare nella nostra Puglia una stagione di grandi cambiamenti nella gestione dei rifiuti. Grazie.